Ebbene a tutti ragazzi qui ci sono oggi, tornati in questo nuovo video e oggi siamo tornati ufficialmente Oggi ragazzi torniamo qui su youtube con un nuovo giveaway per vincere la Fennec Non si parla della Fennec normale ma ragazzi parliamo della Fennec grigia Per entrare in questo giveaway ci saranno dei procedimenti Il primo procedimento è quello di lasciare like a questo video Il secondo procedimento è quello di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche Il terzo procedimento è quello di iscrivervi al mio canale twitch Vi lascio il link in descrizione nel primo commento oppure qui sotto Il quarto procedimento è quello di scrivere qui sotto nei commenti hashtag Fennec solo una volta Il quinto passaggio ragazzi è un procedimento extra Quindi se si vuol far si fa altrimenti si può anche non fare Comunque ragazzi se non lo fate sarete comunque all'interno del giveaway Questo passaggio vi aumenterà la percentuale di estrazione nel giveaway Con questo passaggio bisogna condividere il video con un proprio amico Far venire l'amico in questo video e far scrivere nei commenti Sono amico di e la persona che appunto ha mandato il video Così aumenterò la percentuale alla persona che ha inoltrato questo video Se qualcosa non è chiaro potete scrivermi nei commenti Ma ora andiamo a giocare un po' Rocket League Eccoci qui ragazzi andiamo subito in competitivo 1v1 Cerchiamo di arrivare a diamante 2 Ragazzi ci siamo Pronti ragazzi Ricuo Perfetto Andiamo ragazzi questo lo dobbiamo distrugge Ok Me la porto qui Mamma mia ragazzi Un attimo ragazzi un attimo Lasciate sta Ve lo dico io Lasciate verde ragazzi Lasciate verde È il primo goal ragazzi Dai Lasciate Vedete ora ragazzi Lasciate verde Lasciate verde Preparatevi ora ragazzi Ok Vi dico di stare tranquilli Vi dico ragazzi Ok Perfetto Te lo fai passare Bellissima così Prendi il turbo Andai qua Te lo spacchi Te la porti sul sinistro E niente E niente E niente Ragazzi forse non è male Però ragazzi È ancora troppo presto per dirlo Non abbiamo fatto praticamente nulla Mi ha fatto un gola a caso Cioè ho sbagliato io sinceramente Però Ragazzi sto Sto giocando male Non so il motivo Sto giocando male Sto giocando male Sto giocando male Ragazzi Da ora È la fine sua Ve lo dico io Ragazzi da ora Non potrà più far nulla Ve lo dico io ragazzi Cioè È scontata come cosa Ve lo dico io Non me lo squaglio Comunque per chi non lo sa Gioco dalla playstation 5 Ok Fidatevi ragazzi Fidatevi Mo gli metto un pressing Pazzesco Me lo devo pushare per forza Ok Te la metti sul muro Qui scende Niente Perfetto La fa sbattere Ok È ancora lì Vado io Lo faccio esplodere Me la porto qua Tiro Gol 2 a 1 ragazzi Tranquilli che la recupero Tranquilli ragazzi È stato momento È stato momento di crisi È stato veramente Un momento di crisi Ma Ce ne siamo usciti Probabilmente Ragazzi ce ne siamo usciti Vediamo un attimo Ci siamo comunque Allora Ok Siamo ancora qui Vai Se volete Se volete darmi dei consigli Ragazzi Sono qui Aperto a tutti Perfetto Qua lo sapevo Che era il palo E ragazzi Qui un gol easy Ragazzi Ve l'ho detto Lasciate perdere Fidatevi ragazzi Che io Le partite Sono capaci di rimontarle Sempre Fidatevi Io veramente Inizialmente Prendo sempre gol Poi la rimonto Sempre È sempre così Ragazzi Ne rimondo Un sacco di partite Allora Ci siamo ragazzi 3 2 1 Vai Ricordo ragazzi A tutti Che sto ogni giorno In live su twitch Ragazzi Quindi andate subito A seguirmi Ok Destro Sinistro Squagliato Ragazzi 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 Stiamo andando Non è che stiamo fatando Ragazzi Stiamo proprio andando forte Eh raga È così 3 2 1 Andiamo E qua È un po' complicato Ok parata Te la fai scendere Te arrivi all'indietro Ho sbagliato Ragazzi Non mi chiedete Cosa ho fatto Ragazzi Considerate che È la prima volta Che registro Col computer In un video Quindi ragazzi È tutta tensione Ma Ragazzi Questo qui Non è forte Assolutamente Ci sta ragazzi Che Prende un po' di gol Eh A caso Sto facendo Così a caso Però Che vedo Perfetto Me la porto qui Me la giro sul sinistro È gol per lui È gol per lui Di nuovo È gol per lui Di nuovo È che vi devo dire ragazzi Vabbè Dai mi devo impegnare Ho capito Non posso Perdere le partite Ragazzi Non posso Non posso Non posso Eh no Dai Skip Skip Vai Ok Andiamo Sguagliato così Niente Ho sbagliato io qua Vabbè Vabbè raga Però Forse ce la faccio Che Che Raga Lasciate sta Forse mi voleva trollare Raga Ma che vuoi fare Fra Ma guardate Visto che mi voleva trollare Raga lo devo distrugge Raga Questo qui Lo distruggo Solo perché voleva trollarmi Ma non sa Con chi sta giocando Ragazzi Eh lo sa Lo sa proprio Ok Me la porto qui L'alzo 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 Siamo qua ancora No Ragazzi Tranquilli È un gol di vantaggio Cioè Io sto facendo degli errori epocali Ma tranquilli raga Fatemeli fa È la prima volta Che faccio queste cose Non ho mai fatto degli errori così Ma perché sto in un video È normale ragazzi È normale Ok Te l'alzi qui Bellissimo Aia Ok Forse lui non ha il turbo Ma ora lo prende Eh infatti l'ha preso Me la sto Ma la porto sul destro Poi sul sinistro Non lo riesco a superare Però Ho questo turbo qui Che me la posso girare Me la giro Perfetto Non riesco a volare Perché ci arriva prima Arriva qui Salto A caso Non ho senza un senso Me la porto sul destro Ancora sul destro Non riesco a far nulla Ancora qui Perfetto Perfetto È normale ragazzi Prima volta che faccio i video Che non vuoi fare Errori Per forza Ok Te l'alzi Te l'abbassi Ok Questo qua Te lo squagli Te la porti sul destro E te la metti così Ragazzi E te la metti così Comunque ragazzi Commentate E scrivetemi Se vi piace La mia esplosione goal È una Non mi ricordo Vabbè È una mystery Dicals Un mercato nero Viola Però non mi ricordo Come si chiama Ma perché ragazzi Non è che di oggetti Me ne intendo tantissimo Comunque ragazzi Io a Rocket Gioco da Da quando è uscito Praticamente Da 5 anni 6 anni Ma dalla PS3 Dalla PS4 Dalla PS4 ce l'ho Ma da tantissimo tempo Comunque Però ragazzi Sinceramente A me degli oggetti No ragazzi Le auto le so anche Ma degli oggetti Tipo turbi Ruote Non li so Però delle macchine Sì Le macchine le so abbastanza Ok Dai questo qua Dobbiamo farcelo Ok ragazzi Dai facciamoci Vincemo subito La prima partita Non l'ho voluto distruggere Però comunque abbiamo vinto Anzi forse No Vabbè Ragazzi Prima partita finita Ci vediamo alla seconda Ok ragazzi Eccoci qui Nella seconda partita Mappa Mi piace tanto Questa mappa Mi piace tanto Mi ricordo Quando l'avevano rilasciata Per la prima volta Mi sembra in estate Che l'hanno rilasciata Ma comunque Mi piace tanto Ok Iniziamo subito bene Prendiamo il turbo qui Ce la vogliamo qua Ok Vabbè Nel chilling Bro Me lo stai Di poco nel chilling Va bene Va bene Ragazzi È stata sfortuna Vediamo un attimo Fammi la lui dire un attimo Che non ho capito manco niente Beh raga Qua sinceramente La poteva lasciare tranquillamente Non ci sarei arrivato Quindi Qui è È un errore suo Sì che è stato sfortunato Ragazzi Ma lì doveva lasciarla Perché tanto Non ci poteva arrivare Oppure la spazzava Semplicemente meglio Ma vabbè Qui ragazzi Sbaglia Vabbè Non era tanto semplice Non era la turbo Ok Qua Vabbè Te la squaglio qui Qui te la squaglio easy ragazzi 2 a 0 per noi ragazzi Tentiamo a far quittarlo Ci tentiamo Ci proviamo ragazzi Vediamo un attimo Ok 3 2 1 Partiamo Vediamo un po' Ma che sta facendo Vabbè Ragazzi Questa qui Questa partita Potrebbe quittare subitissimo Vediamo un attimo come andrà No non quitta Non quitta Non quitta Ok Secondo me Quitta era breve ragazzi Mo' mi impegno un attimo Per farlo quitta La andiamo sul muro Te la giri così Ok Rimane là Ci perdiamo questo turbo qui Il pallone Ah lo ha preso bene Questa volta Non me l'aspettavo Lui prova a fare I miei esplode ragazzi Ma io gli salto sopra Eh Questo qua ci sta provando Ragazzi Ci sta provando Andiamo un attimo Non ho turbo purtroppo Devo subito prenderlo Andiamo un attimo Cosa fa Bello Bellissimo Però ragazzi è stato sfortunato È stato sfortunato Però vabbè 4 a 0 ragazzi Purtroppo ragazzi Lo sapete qual è il problema Che lui sta troppo in pressing Cioè lui Sta cercando di segnare in ogni modo Perché sta sotto di tanto Di tanto Per questo ragazzi È così È così aggressivo Non pensa neanche alle mosse che fa Ragazzi Perché vuole segna bassa Ma ci sta eh Sta perdendo 4 a 0 Vabbè Qua è stato FK Vabbè ragazzi Dai Dai Quando quitta Parliamoci seriamente Non quitta Vabbè Se mi rimonta Non può rimontarmi Dai Sto giocando anche serio Più o meno Perfetto Voliamo così Non so cosa ho fatto Però vabbè Ci siamo comunque Questa è traversa Più sopra della traversa Te la porti sul destro Ragazzi Io sto facendo partite a caldo Quelle che escono Escono Posso giocarle bene o male Non mi interessa ragazzi Ok Me la alzo di nuovo Niente qui Provo a rialzarmela Perfetto Questa qui è buona E forse entra No traversa No Si è a 0 ragazzi Si è a 0 E quitta ragazzi E la quitta Ragazzi Ha quittato la partita Vediamo un attimo ragazzi Allora Siamo a diamante 1 Divisione 2 Dai Ci dobbiamo arrivare A diamante 2 Quindi ragazzi Io vi ringrazio Per essere stati in questo video Vi invito a partecipare A tutti Al giveaway Io ragazzi Vi saluto Noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Vi aspetto su Twitch Vi saluto